Sgominata banda di spacciatori in costiera sorrentina, oltre mille le cessioni di sostanza stupefacente documentate dai carabinieri di Sorrento che all'alba di oggi, coordinati dalla procura di Torre Annunziata, hanno sgominato un'articolata banda di spacciatori che aveva messo in piedi una piazza di spaccio frequentatissima, soprattutto da insospettabili a Vecaquense. Complessivamente sono 33 le misure cautelarie messe dal GIP, 32 sono state notificate nelle province di Napoli, Caserta, Salerno, Cosenza, Ragusa e Caltanissetta. Al momento manca l'appello uno degli indagati. I carabinieri durante le notifiche dei provvedimenti hanno sequestrato anche una pistola pronta all'uso e due manganelli in legno riportanti lo slogan credere, obbedire e combattere, sui quali si stanno facendo ulteriori accertamenti. Trovate sequestrati anche sei coltelli, un'ascia, una lama artigianale, una piccozza, una multilama ninja. La droga, hashish, marijuana, cocaina, crack, veniva acquistata dai pusher nel rione pennini e l'olito rianunziata. L'attività investigativa che ha portato al blitz e scattato all'alba di oggi riguarda il periodo che vada all'estate del 2020 e l'inverno 2021.